Arresto per 17 persone a Palermo, accusate tra l'altro di associazione mafiosa, istorsione, tentato omicidio. L'inchiesta, coordinata dalla DDA, è la prosecuzione di operazioni condotte nei confronti degli affiliati del mandamento mafioso di Porta Nuova negli ultimi sei anni e ha permesso di decapitare il clan di Borgo Vecchio, grazie alle intercettazioni e alle rivelazioni di due pentiti individuati a sette dinamiche della Cosca. Dall'indagine è emerso il ruolo di vertice nel clan di Elio Ganci, scarcerato due anni fa dopo aver scontato una condanna per mafia e istorsioni. Ritrovato anche il cosiddetto Libro Mastro del Pizzo, una sorta di documento contabile con l'indicazione delle vittime e del bilancio delle istorsioni. Ricostruiti inoltre 14 taglieggiamenti a imprenditori e commercianti costretti a versare a Cosa Nostra somme di denaro per evitare le ritorsioni che in qualche circostanza sono avvenute e sono state documentate dai carabinieri.